Sta prendendo forma il nuovo Pescara. Ieri è stato definito lo scambio con il Cagliari che si è assicurato le prestazioni di Marco Capuano che dunque a distanza di tre stagioni ritroverà Zdenek Zeman che ha voluto fortemente l'ex nazionale Under 21. Al Pescara arriva in prestito in cambio il difensore centrale 19enne Dario Del Fabbro. Al Pescara vanno anche 200.000 euro a fine stagione e la società isolana potrà riscattare Capuano per 1.200.000 euro. Nell'ambito dello scambio con il Rosso-Blu è stata anche organizzata una gara amichevole che dovrebbe disputarsi notturna il 13 agosto allo Stadio Adriatico. La partenza di Marco Capuano ha seguito di poche ore la decisione di Baroni di escludere dai piani tecnici l'altro difensore Antonio Bocchetti. Il 34enne atleta campano è dunque ufficialmente sul mercato. A questo punto la società dovrà comunque reperire un altro difensore centrale considerando che Del Fabbro, seppur promettente, è ancora tutto da scoprire. Con Pesoli si cercherà un altro difensore di peso e di sostanza, visto che nelle ultime stagioni proprio il reparto difensivo ha rappresentato il problema maggiore del Pescara. Restando alle cessioni si continua a lavorare con l'Empoli per Bigir Bjarnason, mentre per Ante Vukusic non si registrano novità. Entro la settimana si definirà anche l'eventuale cessione di Ferdinando Sforzini alla Salernitana. Sul fronte acquisti il Pescara conta in queste ore di accelerare le trattative per Marcel Bukel della Juventus e Flavio Lazzari del Novara. Intanto il difensore Carcalis piace all'Aquila, l'altro baby Antonelli è seguito dal Foggia. Questo pomeriggio alle 15 nella sede della Inter Service Leasing verrà presentato il nuovo tecnico della formazione primavera Massimo Oddo, che ha già iniziato a lavorare con i suoi ragazzi al Poggio degli Ulivi.